Progettare con cura. Gli educatori non solo sono stati accanto ai ragazzi nelle modalità possibili, ma hanno anche pensato a cammini sempre possibili, magari un domani, speriamo vicino. Ecco, come direttore della FOM e coordinatore di ODL, come vede questa prospettiva? La prospettiva ha del miracoloso perché nella situazione in cui ci troviamo le parrocchie, gli oratori delle diocesi lombarde hanno comunque pensato non soltanto alla sopravvivenza ma addirittura a inventare qualcosa di nuovo e noi oggi vogliamo sottolineare proprio questo aspetto, la capacità creativa dei nostri educatori, la capacità creativa dei nostri oratori. In modo particolare i progetti vanno a toccare tre aspetti, diciamo la dinamica più aggregativa, più socializzante dell'oratorio, un intervento più formativo rivolto ai giovani del territorio e un intervento in ambito sportivo. Diciamo che ciò che unifica questi interventi è la volontà di intercettare, di prevenire forme di disagio che ahimè in questo tempo stanno diventando davvero importanti e consistenti. Quindi davvero i nostri oratori ci sono esprimendo una capacità, una creatività che davvero ci lascia sorpresi, meravigliati e contenti. Praticamente ogni chiesa della nostra diocesi ha un oratorio, quindi una diffusione capillare che può essere molto utile a fini educativi anche per la società. L'oratorio è un luogo certamente di educazione di fede ma è anche un luogo di crescita, per esempio contro il bullismo. Contro il bullismo, contro le espressioni più violente, contro fenomeni che ci preoccupano perché sono più eclatanti ma non dimentichiamo anche una fatica quotidiana che sta toccando tutti gli adolescenti in modo particolare fin nella condizione più domestica della loro vita, dove di fatto si è ridotta la sfera della loro vita, la socialità che è scomparsa, l'esperienza scolastica che è diventata didattica a distanza. Certo noi siamo colpiti da fenomeni che assumono anche un'importanza, una rilevanza pubblica di violenza e pensiamo ai gruppi di adolescenti che si ritrovano per picchiarsi ma non dimentichiamo una fatica crescente di sostenere la vita, la fatica di ritornare in presenza a scuola dopo mesi di didattica a distanza, l'ansia di dover sostenere un esame in presenza ecco sta crescendo in maniera preoccupante, una difficoltà è un disagio. L'oratorio cosa può fare? L'oratorio c'è, è la mano tesa, è la relazione più vicina, è l'ascolto immediato che piano piano consente di riprendere una vita.